Continua il fatto di non essere in aula, continua il fatto che è inutile andare a votare con un metodo di gestione di quest'aula che non ci piace, non ci è piaciuto, non è democratico e qualsiasi cittadino italiano in quest'aula si sarebbe comportato come la Lega. Lega non sull'Aventino, la Lega in questo momento è in una posizione di attesa e di analisi di quello che ci dirà il governo. Però non ci vogliamo mischiare 5 Stelle che hanno una posizione diversa, noi abbiamo fatto delle proposte concrete, dieci proposte concrete. Dopo 17 giorni il governo ha letto le nostre dieci proposte concrete di cui abbiamo parlato fino adesso, è uscito il fatto che per il Presidente del Consiglio la riforma costituzionale è una priorità anziché parlare di lavoro e di cose che interessano realmente i cittadini ed è uscito che la posizione della Lega rimane totalmente negativa nei confronti di questa riforma e ancora più negativa nei confronti di come viene gestita l'Aula del Senato. Posizione come abbiamo fatto fino adesso, non partecipiamo ai lavori e siamo in questo momento l'unica vera forza di opposizione a questo governo perché sin dall'inizio questa mattina avevamo deciso di non partecipare ai lavori, domani con i decreti saremo in Aula perché quando si parla di proposte concrete e di cose che interessano i cittadini la Lega c'è in Aula e si batterà e poi da quando ritorneremo a trattare di riforme costituzionali vediamo come comportarci, voglio aspettare che leggano esattamente e attentamente le nostre proposte.